Buonasera e ben trovati dall'auditorium Parco della Musica di Roma. Tra poco l'orchestra e il coro di Santa Cecilia ci faranno ascoltare la Nona di Beethoven. La Nona di Beethoven è la cappella sistina delle creazioni musicali e non ha certo bisogno di presentazione. La direzione di Petrenco, nuovo direttore della Filagonica di Perlino, appare alla luce di quanto abbiamo ascoltato in alcune sue recenti registrazioni quanto mai interessanti. Tra pochi giorni da Videoselle, a Trezzano sul Naviglio, in questo grande negozio dedicato all'audio e al video di alta qualità, assieme ad AV Magazine che ci ospita e al suo Chief Editor, Publisher, Emilio Frattaroli, potremmo ascoltare e vedere anche qualcosa dalla Nona Sinfonia di Beethoven e l'ascolteremo in Dolby Atmos. È una grandissima esecuzione, una grandissima esecuzione del passato che è stata recentemente riversata in Dolby Atmos. Ma non voglio rovinarvi la sorpresa. La musica tutta attorno a voi, la musica Immersive Audio, ha bisogno dell'ascolto in multicanale, ha una marcia in più e un senso di coinvolgimento ancora maggiore. Ma questo lo ascolteremo e lo vedremo insieme. Grazie ancora e buon concerto. Grazie a tutti.